Allora adesso vi faccio vedere la riparazione di alcuni bolli. Prima di iniziare se siete privati con le vetture danneggiate non facciamo pagare franchigia, diamo la vettura sostitutiva e diamo 100 euro di rimborso carburante. Quindi se avete la macchina assicurata grandinata prima di portarla in carrozzeria a riverniciare ce la portate, non pagate nulla, uscite con la macchina sostitutiva per il tempo di riparazione, con 100 euro di buono carburante e avete la macchina riparata senza verniciatura, ripristinata allo stato originale. Andiamo a vedere questi tre bollini. Utilizzo unicamente questa levetta manuale. Allora bollini 1, 2, 3. Come la utilizzo? Entrando nella traversa. Quindi sopra c'è il cofano, sotto c'è la traversa, la utilizzo in leva così. Allora bollino 1, bollino 2, Ok, bollino 3. Allora, questo è quello che insegno nei corsi, quindi parte di quello che si fa nei corsi. Ovviamente nei corsi si vede tutto, si vede come si fa la riparazione, la pratica, la forza da dare, l'inquadramento della lampada, l'inquadramento di chi lavora, quello si fa unicamente per conto vostro facendo pratica. Se video di questo tipo vi interessa, non fatemelo sapere, condividete e se siete assicurazioni con almeno 200 vetture da riparare, contattatemi. Ci vediamo nei prossimi video.